Ciao a tutti appassionati di Anime Manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche in Global Telegram per stare sempre a giornata. Tutti i link come al solito li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la recensione della Crociata degli Innocenti di Usamaru Furuya, edito da Goen, prezzo 4,95€, tranne i primi volumi che costa 1,95€. La spesa non è per nulla eccessiva, faccio dire giusto questi disegni di Usamaru Furuya, molto molto interessante, molto particolare, molto adatto a tutti i suoi manga, che davvero turbano l'animo umano i suoi manga, ti fanno davvero riflettere, perché tutti i suoi manga è un po' una critica alla religione in generale, al fanatismo religioso. In qualche modo, in certe azioni, è anche un po' blasfemo, se vogliamo dire. Parlando di questo manga, siamo nel 1212 in Francia, dove dei bambini di un villaggio, in particolar modo Nicolas, che ha 12 anni, che ha il sogno di diventare un crociato, un templare e andare a liberare la terra santa, mentre Etienne è un bambino molto buono, molto gentile, ha a un certo punto delle visioni, comunque prevede un po' il tempo guardando le nuvole, ha delle previsioni, visioni, un giorno trova una tromba in cui Dio stesso gli dice che devi partire per andare in guerra, devi partire per andare a liberare la terra santa, e con questa tromba crea dei miracoli, almeno si pensa così, e quindi vediamo comunque la fede e il fanatismo religioso fin da subito, e lui viene invitato come il nuovo messia, e lui e gli altri ragazzi, in particolar modo Nicolas, e tutti gli altri bambini, decidono di partire dal nord della Francia, verso il sud della Francia, per partire poi per la terra santa, quindi è proprio un viaggio metaforico che i bambini fanno per entrare nel mondo degli adulti nell'età adulta, e l'autore fa capire che il passaggio dall'innocenza dei bambini all'età adulta, questo passaggio fa corrompere il cuore innocente dei bambini, facendoli compre ogni tipo di nefandezza, ogni tipo di orrore, assassini, prostituzione, soprattutto fa vedere il fanatismo religioso qua, una frase che mi ha toccato parecchio, tutti i diversi devono morire per dimostrare che noi siamo nel giusto, siamo quelli che hanno ragione, molto forte come frase, fa vedere tutto il fanatismo religioso, soprattutto nelle crociate, ma anche molto odierno questa affermazione, perché sfocia anche nel razzismo, oltre che nel fanatismo, come è successo anche nel nazismo, e quindi è una frase molto forte che mi ha colpito parecchio, devo dire, soprattutto fa la sentire da un bambino, ricordando comunque quegli anni lì, nel Medioevo si cresce in fretta, ecco, non è che un bambino viveva in modo semplice, sereno come adesso, comunque è obbligato a crescere in fretta, a diventare adulto alla svelta, e vediamo tutto l'orrore, per appunto, di questo mondo degli adulti, che corrompe, per appunto, i bambini, gli fa diventare adulti alla svelta, li sfrutta, in particolar modo, con una figura, Misser Hugo, questo capo di una fazione dei Templari, che vede, per appunto, Harry, Etienne, e Nicolas, e tutti gli altri, e decide di sfruttare questo fatto di miracolo, in modo molto particolare, che non vi dico perché, spoiler, per accumulare ricchezze, e quindi, infine, giustifica i mezzi, e gli stessi bambini, entrando in questo mondo, cominciano a ragionare così, tutto è evoluto, tutto è concesso per raggiungere i propri obiettivi, tutti i mezzi, per quanto possano essere squallidi, sono considerati leciti, in qualche modo, e quindi c'è proprio la corruzione del cuore, innocente di un bambino qua, proprio, Usamaru Furuya, punta il dito, secondo me, sulla società giapponese, che, come dico spesso, lascia da soli crescere i propri figli, perché sono sempre al lavoro, e in qualche modo, vengono corrotti un po' all'innocenza dei bambini, soprattutto nel mondo moderno anche, soprattutto con ideologie sbagliate, facendo credere che i soldi possono tutti, tutto, e i soldi sono la prima cosa, e si è da soli in questo mondo, e è lecito anche tradire gli altri, però appunto i soldi fanno la padrona, così come tutte le apparenze, le bugie sono spesso utilizzate, e proprio, vediamo gli innocenti come vengono sfruttati, e, mentre gli adulti cattivi, crudeli, che usano qualsiasi mezzo, la violenza, ottengono sempre quello che vogliono, in effetti, e quindi, anche se è sbagliato, ovviamente, perché non è così, ma soprattutto, oltre al fatto di corrompere i cuori dei bambini, nel mondo adulto, ma proprio il fanatismo religioso, come ho accennato all'inizio video, che è molto potente in questo manga, molto fatto vedere in modo parecchio crudo, violento, come queste ideologie sbagliate, questi pensieri sbagliati, possono portare alla distruzione, a compiere nefandezze peggiori, di quelle che accusano, diciamo, i pagani, in qualche modo, tutto si nasconde dietro la parola di Dio, cioè, che, compiere tutti, per appunto, questi peccati, ma usando, dicendo che Dio vuole così, un po', ti assolvi da solo, ti fai scudo, con queste parole, per poter commettere, stupri, omicidi, furti, rapine, violenza, gratuita, e davvero, è un manga molto crudo, violento, quindi, consiglio comunque la visione, a un pubblico magari, un po' più adulto, ecco, perché non è, secondo me, adatto, appunto, ai ragazzi, perché, va a vedere, alla fine, quello che non dovrebbe essere, ma è più un manga, proprio per gli adulti, per far capire, agli adulti, occhio, come crescete i vostri figli, non dovete ridurli, così, non dovete fargli credere, che è un mondo, in cui comandano i soldi, anche se purtroppo è così, proprio, più per educare i ragazzi, questo manga, per educare gli adulti, i genitori in particolare, per dare un occhio di riguardo, per appunto, la crescita dei propri bambini, dei propri ragazzi, e farli crescere con altri valori, perché, secondo l'autore, secondo anche me, i valori odierni dal mondo, sono, secondo me, fallaci, cioè, sono valori, non tanto giusti, che comunque, prediligono l'io, più dal collettivo, e soprattutto, schiacciare il più debole, per erigersi, diventare, salire di livello, salire sulla scala economica, in particolar modo, almeno, in questi tempi, ovviamente, c'è anche la violenza, in questi tempi, però, qua è molto violento, come manga, in effetti, e ripeto, punta anche un dito, contro il fanatismo religioso, e il fanatismo, secondo me, di ogni sorta, diciamo come santoni, o sette, non solo religiose, ma anche sette, di altro genere, secondo me, che plagiano, un po' la mente, delle persone, qua, fate dei bambini, perché, è più facile, plagiare la mente, dei bambini, va a vedere figure, come se fossero, figure degli adulti, come se fossero degli eroi, che riescono a fare tutto, anche se magari, hanno un lato, nascosto, che, non mostrano, agli occhi, i bambini, li fanno vedere, solo la parte bella, quando in realtà, la parte brutta, è quella che la fa la padrona, e quindi, proprio plagiano, in qualche modo, la mentalità, dei bambini, e, ti fa riflettere, devo dire, questo manga, forse, fa riflettere, di più, chi ha dei figli, come, magari, non si accorge, di crescere, in maniera sbagliata, oppure, lasciare un po', il caso, la crescita, dei bambini, magari, alla scuola, senza, effettivamente, interessarsi, come i propri figli, stanno crescendo, con quali ideali, con quali valori, vediamo, anche in telegiornale, in telegiornale, molta violenza, anche a questi baby gang, quindi, fa un po' male, vedere queste cose, perché, basterebbe davvero poco, interessarsi di più, ai problemi, dei giovani, e chiedere, cosa vogliono, qual è il loro problema, cosa desiderano, se magari si sentono soli, abbandonati, e soprattutto, questo cercare di imitare, il mondo degli adulti, non solo nelle cose belle, ma soprattutto, nelle cose brutte, perché, è ovvio che, vedendo come ideale, questo mondo, degli adulti, che, chi ha i soldi, che ha il potere, comanda, ha la bella macchina, ha le donne, è ovvio, che attira di più, che uno, che magari, fa una vita semplice, fa l'operaio semplice, e magari, fa anche fatica, arrivare a fine del mese, e quindi, secondo me, la società, dà un ideale sbagliato, di quello che dovrebbe essere, il sogno, l'obiettivo, soprattutto, i mezzi, per raggiungerlo, fatemi, fatemi sapere, qui sotto, cosa ne pensate, nei commenti, se magari avete letto il manga, noi ci vediamo, ai prossimi video, video.